All'Aquila l'atmosfera natalizia c'è. Fino al 7 gennaio il corso principale sarà animato dal mercatino natalizio della FIVA Confcommercio con 12 espositori in piccole casette bianche stile baita. Artigiani della città ma anche della provincia e qualcuno da Pescara. Attività parallela allo shopping, dei negozi nel passeggio aquilano, vestito a festa con luminari eleganti e sobri e con lo splendido albero di Natale in Piazza Duomo. Nonostante il cantiere la ditta ha lavorato anche di notte per essere pronta a rapire la porzione centrale e far montare l'albero per consentire durante le feste alla gente di fluire almeno in parte della piazza in attesa del completamento del restyling che nel frattempo ha mostrato anche il funzionamento dei tanto contestati lampioni. Abbiamo fatto con il comune dell'Aquila, con il vice sintaco Raffaele Daniele, si è voluto fare insieme anche CNA oltre che Confcommercio anche CNA ha collaborato a fare questo mercatino per il corso con delle casette di legno mercatino natalizio con un colore bianco adeguato alla location della città perché la città sta rinascendo con tutte le altre attività commerciali che è importante. Questo è un modo per stimolare anche i giovani a aprire attività perché l'Aquila è una città di turismo, di commercio e anche con gli albergatori stiamo in sintonia per fare dei weekend brevi ma comunque che vengono a vedere il nostro mercatino e la nostra città. Un'atmosfera magica in centro dove la gente nonostante tutto si sta riversando anche se in alcuni punti ha un percorso un po' ad ostacoli proprio per i cantieri ma va bene così. Il Natale mette un po' sotto il tappeto dibattiti e polemiche eppure i commercianti sperano che grazie alle molteplici iniziative intraprese il centro sia preso d'assalto. Natale è anche mercatini tipici, lei ha portato l'eccellenza del Tombolo Aquilano che è sempre molto richiesto. Sì, siamo ospiti qui in questo mercatino all'interno della vecchia Hotel Italia e sempre con orgoglio scendo in città da Santo Stefano di Sessanio dove ho la mia piccola attività. Il mio merletto a Tombolo poi è particolare perché io ho sostituito il filo di lino con un filo di metallo e realizzo merletti da indossare come gioielli.